E insomma, ci siamo? Fa un freddo porco! Ci siamo, siamo... Ma tu hai un golfino sopra, una felpa, sopra il pigiama, sopra la canottiera, sopra il reggiseno, sopra la tua pelle? No, no, reggiseno. Siamo simpatiche! Siamo simpatiche! Guarda! Siamo impertinenti, un pochettino. Ma basta, così impertinenti. Allora, dobbiamo trovare una nuova parola per questo nuovo anno. Ah, per la nuova stagione? Sì, basta. Per impertinenti non mi piace per niente. Ma come? Scrivetecene nei commenti una nuova parola per dire siamo ancora... X, Y, Z. Come i Pokémon. Come state, raga? Tutto bene? Io no, come potete sentire dalla mia voce. Malata marcia dentro. Se sentite dei rumorini, tra l'altro, ci sono i tubi di scarico che abbiamo qua sopra, che quando la gente fa la cacca si sente... Sì, e questo perché siamo troppo poveri per permetterci degli studio sveri, a differenza dei nostri competitor. Esatto. E Luis, che però salutiamo. Che salutiamo. Salutiamo con calore. Ciao Muschio Selvaggio. E consigliamo il podcast. Bello il roadcaster che vi siete comprati, molto bello. C'erò anch'io. Sì, solo che, insomma, ecco... Vabbè, facciamo che loro sono molto ricchi e possono permettersi un set decente. Vabbè, ma è giusto così. Una persona che gli scrive le puntate. Una persona che gli fa l'audio, una persona che gli fa le luci, una persona che gli affitta tutto. Un giorno... Basta. Ecco, questo volevo. Comunque, per chi si fosse perso questa news del fatto che non siamo più in uno studio, ma siamo in una cantina. Nella scorsa puntata del podcast, che è stata la prima puntata della stagione, della seconda stagione, abbiamo spiegato tutta la nostra povertà e come siamo arrivate ad essere così povere della vita. Dovreste guardarlo questo video perché è molto bello e dovreste ascoltare il podcast. Non so se alla fine lo abbiamo messo su Spotify, Spreaker, iTunes, eccetera. Nel caso. Però, in caso, ascoltatevelo e ascoltate anche questo se ci state guardando, che potrebbe essere interessante. Sì, io intanto ne approfitto per ringraziare il nostro sponsor che ci vuole un sacco bene, ovvero Toman. Grazie mille. Ci ha mandato tutta la strumentazione che vedete qua. Aia! Ce l'ha mandata Toman. Soprattutto il mio amatissimo roadcaster, che io amo alla follia, che è questa console da cui possiamo fare veramente qualunque cosa e che sfrutteremo al meglio, soprattutto nei prossimi episodi. Assolutamente sì. Ma di che cosa si parla oggi? Di cosa si parla oggi? Oggi si parla del nuovo decennio. Addirittura. Perché, per chi non se ne fosse accorto, siamo nel 2020. Sì, perché nessuno ne ha parlato. No, nessuno ne ha parlato. Io, tra l'altro, sono arrivata a fine 2019 e ho detto, ma perché c'è tutto questo hype per il 2020? E poi mi sono resa conto che effettivamente era il nuovo decennio. Sì. Quindi noi abbiamo lasciato alle nostre spalle tutta la nostra adolescenza. Sì. Voi probabilmente avete lasciato l'infanzia alle spalle. Com'è che si dice che chi sa quel che lascia, ma non sa quel che trova? Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia o non sa quel che trova, non riesco a capire il collegamento. Nel senso, siamo nel nuovo decennio, chissà cosa non ci porterà questo nuovo decennio, no? Volevamo quindi partire facendo un recap di questi anni dieci che se ne sono andati. Anni dieci fa un sacco di ansia. Comunque nuovo anno più acculturate. Cioè l'anno scorso abbiamo parlato di trashate soprattutto. Quest'anno invece siamo molto acculturate, vogliamo parlare di cose belle strutturate. Sì, infatti siamo partite con il nuovo decennio a bomba proprio. A bomba? A bomba. Sì, tu malata, io povera. Sì, nel senso che dal ponte succederà molto. Vabbè, ma queste sono cose che insomma non ci interessano. Allora, gli anni dieci, cosa è successo in questi anni dieci, ruggenti anni dieci? Un sacco di roba. Tra l'altro l'altro giorno parlavo con i miei genitori, no? Sì. E facevamo questo parallelismo. A proposito di terrorismo? Esatto, no. Però diciamo che oggettivamente negli ultimi, fai cento anni in realtà, però negli ultimi cento anni c'è stato molto più progresso rispetto a tipo tutto il Medioevo. Sì. Cioè se tu calcoli tutto quello che è successo nel Medioevo e calcoli tutto quello che è successo negli ultimi cento anni, cosa hanno fatto nel Medioevo? Cosa è successo? È vero. Una mazza di niente. Cioè ovviamente sono successe cose, ma rispetto agli ultimi cento anni non è successa una mazza di niente. Ma soprattutto gli ultimi dieci anni sono stati quelli ovviamente di progresso tecnologico in maniera veramente, veramente esponenziale, soprattutto secondo me con l'avvento di Elon Musk. Sì. Cioè Elon si sta prendendo tutto, non gliene frega niente, lui prende e fa. Prima o poi voglio avere una Tesla più che altro. Sì, vabbè, l'importante è crederci. Crederci. Comunque sì, è stato anche un po' l'anno dei social, cioè il decennio dei social, l'esplosione di Instagram, Facebook, vabbè c'era già prima, però adesso forse non so quanto sia utilizzato da noi cio 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 ciofani, però Instagram, TikTok, anche YouTube è esploso in questo decennio. Quindi diciamo che stiamo diventando sempre più anche dipendenti da questi social, probabilmente gli anni venti saranno noi così, che guardiamo i telefoni come degli ossessi. Ma più che altro, al di là di questo, cioè se tu ci pensi, nel 2010 avere 10.000 iscritti su YouTube, tu eri il re del mondo, cioè eri il capo di tutti, invece adesso 10.000 iscritti sono, cioè sei l'ultimo, veramente l'ultimo arrivato. È vero. Stessa cosa sugli altri social che sono nati, nel senso che veramente c'è stata una crescita esponenziale. È vero, è vero. Un'altra cosa che è cambiata tanto in questi anni è l'utilizzo della televisione, il fatto che ci siamo trasportati tutti, tranne proprio quelli che porrelli stanno ancora davanti alla tv, però noi giovani siamo traslati in questo nuovo mondo digitale grazie a Netflix che ci ha portato a sederci lì e guardarci tutte le serie tv, film e non uscire più di casa, perché che motivo puoi avere per uscire di casa quando sui social vedi tutto quello che fanno i tuoi amici e su Netflix ti puoi vedere tutti i film che danno al cinema? Ma secondo te i prossimi vent'anni, no, dieci anni, il prossimo decennio è la morte della tv o no? Secondo me sì. Sai che secondo me no? Dici che riusciranno a farne qualcosa di buono? Sì, nel senso che secondo me la tv non sarà più ovviamente tv tradizionale, non ci sarà più la tipica tv tradizionale per cui accendi la tv e quello che c'è ti guardi, ma sarà sempre più on demand, cioè nel senso che tu comunque la tv in casa ce l'avrai, però anche i programmi normali, diciamo quelli che vedi, hai sempre visto, sicuramente faranno dei passi avanti e cercheranno di essere sempre più on demand, sempre più su internet e sempre più evoluti proprio per arrivare anche a un pubblico giovane, perché altrimenti muoiono, cioè è l'unica cosa che possono fare perché altrimenti sono già morti. Perché io non vedo tanta evoluzione in tv per quanto riguarda questo discorso, cioè mi sembra che si tenda sempre a restare un passo indietro, no? Sì, adesso... Ciao, amendeus. Adesso, ah, a proposito, adesso ne parliamo anche di questa cosa. Adesso ne parliamo, sì. Anche se ormai sarà già, ne avrete già parlato ben ben perché fra due settimane uscirà questo podcast, però... Però è vero, ma perché in questo momento secondo me la tv è capitanata da persone vecchie. Cioè nel senso la tv è ancora un concetto molto vecchio e utilizzata e soprattutto, non mi viene il termine tecnico, però appunto... Gestita. Esatto, gestita da persone che sono vecchie e abituati a metodi vecchi, che poi con vecchi intendo dieci anni fa, nel senso che non è che si parla di medioevo veramente, però si parla di... il problema è che il progresso tecnologico in questo momento è talmente in evoluzione ed è talmente veloce questa evoluzione che giustamente una piattaforma come la tv, che non è neanche una piattaforma, perché per piattaforma noi già intendiamo cose che stanno online, però un ente come può essere quello della tv è già vecchio e è già indietro e secondo me però più andremo avanti, più la nostra generazione crescerà e più invece saremo in grado di trasformare la tv, che ora in questo momento è tradizionale, in tv on demand e in tv diciamo un po' più giovane, un po' più per giovani, però l'obiettivo è ovviamente quello di noi per primi stare al passo con i tempi, perché è quello che succede sempre, cioè il sessantenne vent'anni fa era quello super informato sulla tv e ha spopolato in tv, adesso noi siamo quelli che stiamo spopolando sul web, ma chissà tra vent'anni magari siamo già dei beceri che diremo quando c'è la tiktok era tutto meglio e invece adesso per noi tiktok è il trash su youtube. YouTube era partito fortissimo nello scorso decennio e adesso fa fatica, cioè sta continuando ad andare, secondo me c'è la possibilità che youtube venga trasformato effettivamente in una tv 2.0 o che comunque le due cose vengano a un certo punto unite. Probabilmente sì. Lo vedo come futuro, perché adesso i social continuano a sfornare roba nuova, già musical lì era super l'anno scorso, due anni fa, adesso è morto, c'è tiktok che però chi lo sa per quanto ci sarà, quindi stare al passo con i tempi sicuramente ci sarà tantissimo progresso tecnologico. Appunto il problema principale è proprio il progresso tecnologico che va così veloce che è impossibile starci dietro, ma cioè semplicemente noi che facciamo contenuti sul web, ad esempio oggi noi volevamo parlare dei buoni propositi per l'anno nuovo, ovviamente è già un argomento vecchio perché siamo già a fine gennaio, ma comunque siamo a gennaio e siamo inizio anno, quindi potenzialmente potremmo parlarne dei buoni propositi per l'anno nuovo, però sul web è una cosa di cui parli i primi tre giorni, il quarto giorno già non esiste, anzi ne parli a fine dicembre nel dubbio perché ti importi avanti, quindi sì. E stiamo andando talmente tanto verso quella direzione per cui, e questo è anche grazie e colpa di tiktok perché comunque le challenge durano due giorni, tre giorni, al quarto giorno già se fai la challenge non esiste più. Davvero. Ed è una challenge in teoria settimanale, quando prima magari anche i trend di YouTube duravano magari un mese, anche solo quando c'è stato tutto quel boom del 24 ore mangiando solo, 24 ore facendo… Sì, siamo andati avanti per un anno, un anno. Sì, qualche mese. Adesso un trend di YouTube dura un mesetto, quando proprio va bene. Quindi questo secondo me può anche essere un parallelismo da fare veramente in TV. Cioè il problema della TV è che non è semplice come il web, cioè io da un giorno all'altro posso decidere di cambiare il mio contenuto. Cioè se il contenuto che voglio fare è già vecchio dico vabbè sti cazzi ne faccio un altro, la TV c'è talmente tanta gente che lavora dietro a un programma televisivo che non puoi dire vabbè no raga domani parliamo d'altro perché c'è così tanto dentro che è impossibile starci dietro. E infatti secondo me una cosa che andranno a fare è sfoltire. Cioè secondo me la TV per funzionare dovrà essere smart e proprio alla portata di un click come purtroppo è il web, cioè ormai ci stiamo abituando al web quindi sarà quello. Secondo me, poi anzi scriveteci nei commenti cosa ne pensate e se non siete d'accordo assolutamente scrivetecelo perché ci piace molto confrontarci perché magari stiamo dicendo delle cagate. Sì, è probabile. Noi che ne sappiamo di questa vita. Ma restando in campo tecnologia qualcuno mi diceva che secondo loro negli anni venti l'intelligenza artificiale raggiungerà il livello umano, di coscienza umana superando il test di Turing. Allora al di là del fatto che, allora io la vedo ancora un po' più lontana, secondo me avrà un sacco di progressi l'intelligenza artificiale anche perché ne abbiamo fatti tantissimi negli ultimi decenni, però ci vuole davvero tanto prima che secondo me la macchina inizi effettivamente a pensare e a comportarsi. A pensare anche emotivamente. Esatto, a pensare a livello emotivo e soprattutto ad arrivare alla concezione della morale perché è una cosa che è difficile imparare, forse non si può, non so, non me ne intendo tantissimo di queste cose, ma mentre programmare le emozioni forse si potrebbe quasi quasi fare, ma la morale che abbiamo è talmente una cosa astratta che è difficile farla diventare un codice o qualcosa da far imparare a una macchina. Assolutamente sì. E tra l'altro sai che abbiamo visto il film Her e a me ha fatto venire i brividi. Sì, ansia. I brividi. Sì. Pensare che Alexa un giorno potrebbe diventare così a me fa veramente venire i brividi. Sì, beh non la vedo lontanissima, non la vedo neanche così vicina. Sì, nel senso che... È vero che il decennio è lungo, eh. Beh, cioè se ci pensi, in uno dei film di Ritorno al Futuro, se non sbaglio, o comunque in un film che hanno fatto negli anni Ottanta, c'era una data che era il 2020 in cui c'erano delle macchine volanti e tantissimi... Io mi ricordo questa cosa che è stato praticamente un chiodo fisso per cui tutti dicevano nel 2020 le macchine voleranno, ovviamente non siamo ancora arrivate a quel livello, quindi questa intelligenza artificiale sì, sicuramente si svilupperà in una... Ad esempio dieci anni fa Alexa era una roba che neanche potevamo pensare, probabilmente. Forse sì, potevamo pensarla, però comunque era impensabile forse averla a casa, a disposizione di tutti. Sì, con pochi soldi, tra l'altro. Esatto, cioè con 30 euro... Super cheap ce l'abbiamo anche noi che siamo povere e non possiamo permetterci un set, però Alexa sì. Esatto, con 30 euro hai un'intelligenza artificiale in casa tua. È vero, è vero. Però appunto, insomma, come magari dal passato ci aspettavamo delle cose, chissà, non so, l'intelligenza artificiale è un argomento molto punto interrogativo. Dovremmo parlarne con gli atti. Esatto, no, dovremmo invitare anche magari un esperto. Assolutamente sì. Un esperto di robotica. Bello! Così capiamo bene. Anche perché c'è tantissima gente che ha ansia che magari i robot un giorno conquisteranno il mondo, l'intelligenza artificiale che ci supera. In realtà ho letto un articolo interessantissimo in cui si diceva che non dovremmo avere paura che l'intelligenza artificiale superi l'uomo, ma dovremmo avere paura che diventi come lui. È bella, filosofica questa frase. Sì, perché avevano già fatto degli esperimenti a riguardo e avevano visto che l'essere umano in contatto con la macchina artificiale, con una macchina artificiale che apprende cose, alla fine si andava a vedere che la macchina apprendeva un sacco di cose terribili, cioè violente. Sì, sì. Ed è quello che effettivamente... Il rischio è quello. Il rischio è proprio quello. Certo. E quindi niente, avevo letto questa frase e mi piaceva, volevo condividerla con voi. No, beh, una cosa che io spero, in cui io spero tantissimo per i prossimi dieci anni, dato che in realtà è una delle mie paure più grandi, una delle mie paure più grandi sono i tumori. Cioè io sono terrorizzata dai tumori, soprattutto per il fatto che sono sempre a contatto con la tecnologia, con il wifi, ho sempre il wifi in camera mia o vicinissimo, magari, a volte mi capita anche di addormentarmi col telefono di fianco al letto, di fianco al cervello. Cioè è una cosa che proprio mi terrorizza, è una cosa che io spero per i prossimi dieci anni è che trovino più cure possibili per più tumori possibili. Perché è allucinante ed fa venire i brividi di quante persone intorno a me abbiano subito o abbiano amici, familiari che hanno subito questo male e che stanno, anzi che purtroppo alcuni sono anche mancati. Cioè è una cosa che mi fa venire i brividi, quindi io spero veramente che ci si possa concentrare. Che tra l'altro ne parlavamo l'altro giorno con dei nostri amici che dicevano che secondo loro in realtà la cura per il 90% dei tumori è già stata trovata, ma che non è ancora stata condivisa per puro guadagno monetario, nel senso che capita che purtroppo è possibile che lo stiano tenendo per la vendita di farmaci e quant'altro. Sì, non so. Non sappiamo, è un discorso plausibile, è un po' complotto. Esatto, un po' complotto. Però potrebbe essere, noi non lo sappiamo. Nel caso spero che invece in questo caso la morale umana superi quella robotica. O invece sarà proprio un robot, poi un'intelligenza artificiale. A spoilerare la cura. Eccola qua, ce l'avevano ma non ve l'avevano data, ma io ve la do perché a me che mi frega. Perché non ho una morale. Perché non ho una morale. Cioè anzi, ho più morale che non è morale rispetto a una persona. So che cosa è giusto perché io so più cose di tutti voi messi insieme. Esatto. Vabbè, ma prima di piangere per queste ultime riflessioni sui tumori, volevo andare a leggere qualche cosa che ci avete mandato voi, perché noi vi abbiamo chiesto su Instagram, su unicorno.island e anche sui nostri profili personali, Francesca Tamburini e Serena.ansaldi, di dirci quali sono le vostre aspettative per questo nuovo decennio. E ci avete scritto un po' di persone. Qualcuno è più simpatico e dice Alexa riuscirà ad eliminare definitivamente Siri e i gatti conquisteranno il mondo. Sui gatti concordo. Sì, mi sembra plausibile. Assolutamente sì. Poi qualcuno dice l'estinzione dell'umanità, finalmente. Ah, ecco cosa volevo dire prima. Che secondo me prima che i robot riescano a conquistare il mondo... Ah, ci ammazzeremo da soli. Assolutamente sì. Ma secondo me è proprio fisso. Perché i robot che conquistano l'umanità, cioè almeno che prendono il controllo sull'umanità, è assolutamente un futuro plausibile, ma secondo me prima ci ammazziamo da soli per tutto il discorso di riscaldamento globale, noi che stiamo ammazzando la Terra, eccetera, eccetera. Infatti un sacco di gente me l'ha scritto. La fine del mondo a causa dell'inquinamento. Ma secondo me nei prossimi dieci anni no, ma nei prossimi venti... Moriremo tutti a causa del riscaldamento globale. Ma chissà. Siete molto propositivi. Eccola qua, la cacchina. Non l'avete sentita? Quindi mi raccomando YOLO. You only live once. Ah, ok. Concentratevi sul qui e ora e sul vivere nel momento, perché probabilmente tra vent'anni moriremo tutti. E con questo, grande! Vai, altre cose? Altre cose. Vabbè, siamo andati un po' sul personale. Qualcuno si aspetta di essere felice, te lo auguro per questo nuovo decennio. Ma lo auguro un po' a tutti. Nuove scoperte positive per l'argomento riscaldamento globale e tanti, tanti cambiamenti. Vi sta proprio a cuore questo riscaldamento globale. Sono molto felice di questo. Eh sì, ormai è l'argomento un po' di punta. Uh, qualche novità sul pianeta rosso. Bello, sì. Il cellulare che fa il caffè, magari il teletrasporto. No, io voglio il teletrasporto, ragazzi. Io voglio che gli alieni mi riportino a casa, perché io sono convinta di non essere di questo mondo, ma che qualcuno mi abbia lasciato qui per dare qualcosa all'umanità. Sto fallendo miseramente, quindi riportatemi a casa, grazie. Scusa, stavo leggendo tanto le risposte dei nostri utenti. Altre cose divertenti. E qua mi dicono di realizzare il mio sogno, Broadway. Anche io vorrei realizzare il sogno di Broadway. Sì, c'era qualcuno che aveva detto, guarda, una cosa bellissima. Ah sì, sul nostro... Che Cesca vinca il Nobel per la letteratura e Sere diventi una star di Broadway. E speriamo anche noi. Guarda, ce lo stiamo augurando anche noi, ma... Almeno ieri abbiamo fatto la nostra vision board. Morirò prima. Della vision board. Vabbè, andatelo a vedere sul mio canale, perché stiamo facendo la vision board con tutti gli obiettivi del 2020. Non del prossimo dieci anni, ma del 2020. Se vi va di darci un'occhiata, secondo me è molto carino. Comunque vedo tantissime persone che si preoccupano per il pianeta. Cioè, tantissimi ci hanno scritto o che l'umanità morirà, verremo sepolti dalla spazzatura, dalla plastica, riscaldamento globale, eccetera, la Terra esplode, eccetera. Cosa provate? Tanti invece ci hanno scritto speriamo di riuscire a trovare una soluzione a tutto questo. Quindi siamo contenti, magari parleremo di nuovo. Ne abbiamo parlato già nella scorsa stagione, ma magari continueremo a parlare del riscaldamento. Del riscaldamento globale, perché comunque è un problema che interessa a tutti, visto che se la Terra esplode, esplodiamo insieme a lei. Anzi, io vi ripeto di scrivere qua nei commenti i vostri pensieri, anche dirci se avete qualche argomento veramente che vi sta a cuore, di cui vorreste che noi parlassimo. Mamma mia, che dialettica. Vabbè, amici, direi che abbiamo detto un po' di cose interessanti. Ovviamente diteci cosa ne pensate, lasciate un like se vi è piaciuto questo episodio. E allora, questo episodio tra l'altro verrà anche caricato ovviamente su Spreaker, quindi potete ascoltarci anche su appunto Spreaker, Spotify, iTunes, Apple Podcast e tutte le piattaforme d'ascolto. Mi raccomando, vi aspettiamo anche lì. Grazie mille ancora a Toman per averci mandato tutto questo materiale, perché ovviamente secondo me l'audio è infinitamente migliore rispetto a quello dell'anno scorso. Anzi, diteci magari dei vostri pareri, però secondo me solo da questo punto di vista abbiamo fatto un passo avantissimo, al di là della cantina, però almeno abbiamo della strumentazione veramente fatta super super bene. Esatto. E niente, direi che ci vediamo la prossima volta, cercheremo di fare anche la challenge nel prossimo episodio. E ci vediamo ovviamente domenica, ogni domenica alle ore 12 sul canale di Unicorn Island. Seguiteci anche su Instagram unicorn.island, perché molto spesso vi chiediamo dei consigli, vi chiediamo anche delle vostre opinioni e anche magari dei vostri vocali, delle vostre risposte, come abbiamo fatto oggi, d'altronde. Fateci sapere nei commenti se c'è qualche argomento di cui vorreste che mi sia discusso in questo podcast. Grazie mille. Va bene, ci vediamo domenica prossima e buona settimana!